Il settore HR Tech è in crescita verticale. Nello scorso anno è registrato ben 4 miliardi di dollari di investimenti, quattro volte quelli del 2017. È per questo che voglio parlarvi di Impruvo, una tra le principali società in Italia, in questo settore, che innova la formazione aziendale. Impruvo nasce da un'esperienza di più di 10 anni nel mercato della formazione e della consulenza aziendale. E lavorando a stretto contatto con le imprese che abbiamo raccolto il bisogno di un nuovo modello di acquisto e vendita della formazione aziendale. Per raccogliere questa sfida abbiamo creato un team con figure manageriali senior. Impruvo è la prima piattaforma online dove si incontrano domande e offerte di formazione aziendale secondo il modello del crowdsourcing. L'azienda inserisce in piattaforma le sue esigenze formative e riceve proposte personalizzate dai formatori iscritti al servizio. Può così valutare i programmi ricevuti, il curriculum dei docenti e le loro recensioni pregresse. Può inoltre richiedere eventuali approfondimenti attraverso un sistema di messaggistica interno. In questo modo l'azienda opera consapevolmente la scelta del formatore più adatto alle proprie esigenze. Le aziende ottengono così più scelta e più informazioni in minor tempo e senza gestire i rapporti commerciali con diversi soggetti. Il tutto gratuitamente. Allo stesso modo i formatori possono gratuitamente iscriversi alla piattaforma e candidarsi ai progetti, riconosciendo una success fee al servizio solo in caso di aggiudicazione dell'attività formativa. Per gli operatori della formazione iscritti al servizio quindi ci sono più opportunità, più margini e minore investimento in sviluppo commerciale. Usiamo le potenzialità del digitale per mettere direttamente in contatto le aziende con i formatori in maniera rivoluzionaria consentendo loro di orientarsi più facilmente in un mercato ricco e frammentato e soprattutto di risparmiare le costose intermediazioni dei rivenditori di formazione tradizionali. Inoltre la nostra innovazione non è solo digitale ma principalmente è culturale e di processo. Anche a livello marketing abbiamo investito tempo per testare vari canali comunicativi senza paura di innovare. Fra questi mi piace citarne uno in particolare, il nostro podcast con l'azione di lavoro che in poco più di un anno si è ritagliato uno spazio di leadership tra i prodotti editoriali sui temi dell'HR. Per anni abbiamo sentito parlare di tecnologie disruptive, Internet of Things, Digital Transformation, Industry 4.0 ma alla fine il vero fattore abilitante per tutte queste rivoluzioni è la formazione delle persone. Proprio per questo oggi il settore dell'HR Tech è sempre più protagonista è una reale opportunità. In un anno e mezzo di mercato abbiamo raccolto tante informazioni utili all'elaborazione efficace del piano commerciale marketing e comunicazione per gli anni 2020 e 2021 e proprio a questo saranno destinati i fondi della raccolta. Vogliamo sviluppare un modello aggiuntivo che consentirà di espandere l'offerta commerciale d'improvo. Offriremo ai formatori la possibilità di caricare direttamente in piattaforma i loro video corsi e di poterli così vendere online. Questo farà diventare Impruvo un vero one stop shop della formazione aziendale. Partecipa oggi al cambiamento e diventa anche tu socio di Impruvo.